Ciao ragazze, nuovo video! Oggi parliamo di shopping, di alcune cose che ho comprato io, altre che mi hanno inviato, ho un pochino di prodotti da farvi vedere, iniziamo subito! Allora, partiamo un poco, sono qua giù, dagli acquisti che ho fatto, guardate qui, dalla reggia del bio, per chi è della zona, diciamo, è un negozio, è una bioperfumeria, saluto Carmen e Carla. Allora, ho ricomprato la lozione micellare di Avril, questi sono 500 ml, di acqua micellare all'aloe e fiordaliso, mi sostrucca tutto, non mi brucia affatto gli occhi, la mia è finita, come sapete io l'ho stramata nell'ultimo mese e l'ho ricomprata. Poi, ho comprato il fondotinta della Sobio, sapete pure che questo è uno dei miei fondotinta preferiti, nulla a che vedere con la BB Cream, perché la BB Cream la mia pelle non la riesce a tollerare. Questo invece è leggero ma... Leggero ma coprente, mi piace tantissimo, il mio è nella colorazione numero 03, poi magari vi farò vedere nel dettaglio ogni prodotto. Poi, ho acquistato sempre alla reggia del bio questa Ceralabra Mente Liquorizia della Anthos, il tubetto è fatto così, molto molto idratante, ma il profumo è freschissimo, devo dire la verità che è un po' appiccica, quindi per chi non piace l'effetto appiccicaticcio e umidiccio sulle labbra, forse non lo consiglierei, però come prodotto è molto molto valido. E poi, pezzo forte, ho preso lui, il correttore di Nabla, che è quello che indosso anche stasera, molte cose infatti le ho già indossate, stavo notando, le ho già utilizzate e le indosso stasera nel mio make-up. Questo, dicevo, è il correttore di Nabla, il mio è nella colorazione 1.0, mi piace tantissimo, va un pochino nelle pieghette, ma io lo tampono con la cipria, perché a me qualsiasi correttore va nelle pieghette, è molto molto valido, ad un costo di 8,50€, direi che è veramente validissimo, ottimi ingredienti, ovviamente, mi piace tantissimo, lo sto utilizzando tutti i giorni, mi piace perché copre, non tantissimo, però copre, cioè quello che deve fare lo fa, e l'1.0 illumina anche un pochino lo sguardo, quindi perfetto. Ho comprato poi da Calzedonia, vi metto magari anche la foto che ho postato su Instagram, tutte mi avete chiesto di questi calzini, sono i nuovi calzini di Calzedonia, carinissimi, sono questi qui con dei cupcake, voglio dire, io li colleziono in tutte le forme e in qualsiasi colore, quindi non potevo farmi scappare questi calzini dolcissimi, bellini, troppo troppo carini, al prezzo di, vediamo un po', 3,95€, quindi carinissimi questi calzini. Poi mi hanno inviato, e ringrazio qui, la Gleam, già avete visto all'opera la tinta labbra, che poi è quella che indosso anche stasera sulla matita pianeta, è l'ultima foto che ho postato, mi avete chiesto tutte che quale rossetto fosse, in realtà era solo la pastella di Neve Cosmetics pianeta, però stavolta ci ho picchiettato su il Lip Radiance di Melanie Mills, questo Radiant Orchid bellissimo, molto corrente, non va via facilmente, mi piace tantissimo, vedete un po' più scuro perché sotto c'ho la matita, però ha lo scovolino ovviamente come un lip gloss, è davvero bellissimo come colore, dura tantissimo, e profuma in un modo vanigliato, quindi mi piace moltissimo, quindi super super promosso a questa tinta labbra, la sto già utilizzando da parecchio. Poi, sempre la Gleam mi ha inviato questo qui, che è il Deep Gold Radiance Dust, l'ho utilizzato per ricreare un po' la prima parte dell'occhio, del make-up, quindi la parte un po' più luminosa e oro, e l'ho utilizzato un pochino sulle guance, non so se riuscite a vedere la luminosità, è una polvere, quindi polvere libera, come potete vedere, un po' più scura del dorato dell'oro, quindi è proprio verso il bronzo, però mi piace tantissimo, l'ho provata questa sera per realizzare questo make-up, mi piace molto, e poi, una cosa che non ho provato, perché sto aspettando un pochino la bella stagione, questo Body Radiance, sempre della Gleam, in pratica è una crema che vi dona effetto abbronzatura, vedremo un po' come si comporta, vi farò poi lo swatch qui di lato, e vi farò vedere nel dettaglio ogni prodotto, quindi io ringrazio la Gleam. Questi quindi erano i prodotti che mi ha inviato la Gleam, io vi vorrei segnalare, ve lo lascio giù nell'info box, l'articolo della mia amica Lucilla Make-up, vi lascio giù, mi raccomando, il sito del suo blog, scrive benissimo, seguitela anche su Instagram, che è Lucilla Make-up, io le mando un bacio grandissimo, non vedo l'ora di prendere un caffè con lei, mi raccomando, è molto brava, anche lei ha ricevuto gli stessi prodotti, e vi accorgerete della precisione delle sue recensioni, tra me abbiamo ricevuto dei prodotti dalla Gleam, quindi vi consiglierei di passare da lei, perché veramente sono molto molto interessanti le sue recensioni, un bacio a te Lucia, mi è stato dato poi all'incontro Sephora Ice a Napoli, questo mini taglia del mascara, Outro Juice Curl, che avete visto sicuramente nel mio ultimo tutorial, che magari vi linko giù, è questo mascara, aveva ragione la mia amica Vale, che qui trovate come Vale Maya, è stupendo, un bacio a occhioni, io la chiamo occhioni perché ha degli occhi stupendi che incantano, questo scovolino piccolissimo, non pensavo potesse dare questo effetto meraviglioso, in realtà mi sono dovuta ricredere, perché è un mascara validissimo, e sicuramente comprerò la size grande, poi ho comprato da H&M due smaltini, uno è quello che indosso qui stasera, il nero, e poi un altro rosso che ho sempre indossato in un video precedente, allora il nero si chiama Manhunter, il rosso si chiama Red Nails, allora questi smaltini hanno un'ottima stesura, un'ottima durata e una coprenza molto buona, mi piacciono tantissimo, li avevo già provati quelli H&M e ve li ho anche consigliati in video precedenti, avevano cambiato il packaging, quindi pensavo fosse cambiata anche qualcosina, invece no, sono lo stesso ottimo prodotto di sempre, costano intorno ai 4,90€, 4,95€, quindi io ve li consiglio, come smaltini low cost, sono davvero ottimi. da H&M poi ho comprato un'altra cosa, me l'aveva chiesto sotto un video, Daniela del canale I Love Makeup, un bacione Dani, dove avessi preso il magnifico piecaciglia fucsia metallizzato, e adesso lo svelo, semplicemente da H&M, è un classico piecaciglia normale, che trovate da H&M in vari colori, anche questo è super super low cost. Non potevo mancare una Yankee, questa è Lilac Blossom, quindi i fiori di lilla, l'ho già ricomprata, in realtà sto comprando sempre le stesse, non so perché, perché qui non se ne trovano molte, devo vedere più online qualche fragranza nuova, in genere quelle floreali sono quelle che mi piacciono di più, perché hanno un odore fresco, che non disgusta affatto, quindi buonissima questa qui, che è Lilac Blossom. Mi hanno inviato poi dal sito Born Pretty Store, e io ringrazio Cinzia, tre cosine, partirei da queste qui, che sono delle ciglia finte, molto molto carine, ovviamente sono sintetiche, però le ho scelte molto molto su... è la seconda volta che collaboro con Born Pretty Store, ho un budget, con questo budget posso scegliere determinati prodotti, io vi lascerò giù nell'info box, il link dei prodotti, e anche un codice sconto del 10%, poi mi hanno mandato questo fantastico blush, con una scritta incomprensibile, sopra, della marca Lideal, non lo so, la colorazione del blush è questa, molto pescata, ma la cosa carina è il packaging, perché il packaging è così, si apre ancora, c'è uno specchiettino, è un piccolo... un piccolo pennellino, insomma, molto molto carino, l'ho già provato e mi piace tantissimo, pezzo forte della Born Pretty Store, ho pubblicato una foto su Instagram, e tutti mi hanno detto che stavo bene con quel rossetto, ed era un rosa shocking, ed era questo qui, della CBI Color Box, il numero 01, guardate qui, ricorda molto il Candy Yum Yum, molto un colore rosa sparaflesciato, molto rosa shocking, mi piace moltissimo, è cremoso, infatti bisogna stare attento anche quando lo si richiude, però mi piace, ovviamente tutti e tre questi prodotti sono super low cost, ho comprato poi la mia amata Fito 9, perché stava finendo, la Fito 9 sapete che è una crema alle 9, erbe, con un ottimo inci, il profumo non è dei migliori, però devo dire che svanisce non appena il capello ha assorbito il prodotto, quindi io non posso stare senza questa crema, anche perché i capelli sono molto secchi, questa è una crema giornaliera per i capelli, quindi la applico veramente tutti i giorni. ho preso poi da Yves Rocher la mia amata crema per i piedi idratante e ho provato, ho voluto provare la crema anche antifatica alla lavanda bio, quindi ottimi prodotti, una l'avevo finita e l'altra l'ho voluta provare, poi questo burro alla macadamia, noci di macadamia, questo qui semplicemente, c'era scritto sul sito che era formulato con l'82% di prodotti vegetali, devo dire la verità, è un nì, non lo bacio, non lo promuovo, voglio ancora provarlo e testarlo, il profumo è buonissimo però, questo ve lo posso assicurare. Ho preso poi due cosine dalla Essence, con la mia amica Mara, che saluto, questo pennello in verde della nuova collezione, devo dire la verità, questa nuova collezione l'ho vista da betta bella, mi ha tentato tante di quelle volte che finalmente quando ho trovato questo pennello, non me lo sono fatto scappare. Questo è il pennellino d'eyeliner, io mi ci trovo sempre benissimo con i pennelli della Essence, quindi penso di trovarmi bene anche con questo qui, non l'ho ancora provato, ma vi farò sapere. E poi, il blush Michelle Cosmesi, che saluto, mi aveva tentata con questo blush qui, della nuova collezione di Cinderella, mi piace tantissimo, avevo visto già il packaging che era carinissimo, ma devo dire che il colore è davvero delizioso, ed è quello che indosso oggi, cioè non pensavo che anche il prodotto fosse carino, l'avrei preso anche solo per il packaging, perché poi costa poco, però è bello non solo dalla scatolina, che ricorda un pochino l'Hot Mama di The Balm, la Bama Mama, insomma, il packaging di The Balm, ma anche il prodotto è molto molto carino, guardate qui com'è bella la colorazione, molto molto carina. poi ho preso a Parigi, sapete che io da poco sono stata a Parigi, ho postato qualche fotina su Instagram, e colgo l'occasione di ricordarvi il mio profilo, che è Lila Cupcake, di seguirmi anche lì se vi va, ho comprato questo t-shirt molto extra large, con la scritta Le Marais Paris, Le Marais è un quartiere di Parigi, e voglio salutare di nuovo la mia amica Lea, che sono andata a trovare lì a Parigi, la mia amica Erasmus, di quando vivevamo in Spagna insieme, mi è piaciuta moltissimo la magliettina, perché è semplice, con questa scritta Le Marais Paris, e poi perché Le Marais è stato il quartiere che mi è piaciuto di più, che mi ha colpito di più di tutta Parigi. Questo quindi era tutto, spero di non essermi dimenticata nulla, questi erano i miei acquisti, qualcosa che mi è stato inviato, qualcosa che ho comprato io, spero soprattutto di avervi tenuto compagnia, ci vediamo al prossimo video sicuramente, iscrivetevi al canale sempre se vi va, io vi mando un bacio grande, un abbraccio a tutte, ciao!